Intervento efficace, occhio a questo lancio, attenzione occasione importante, tenta il pallonetto, ed entra in rete, gol! Una parabola strana della palla, sembrava dovesse colpire, la traversa invece si è saccata appena sotto. Alcune volte il portiere, lo sappiamo, può far vincere le partite, direi che oggi non è andata assolutamente così, anzi. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio.